Lockdown di Natale, Italia zona rossa, città semideserte, negozi chiusi, spostamenti vietati, controlli e obbligo di autocertificazione. Covid lieve incremento indice RT, gli esperti in Natale in pochi per tutelare anziani, primi vaccini dal Belgio in viaggio verso il nostro paese. Variante inglese a dove era ancora colonne di camion preoccupa una seconda mutazione sudafricana, in Germania nuova impennata di contagi. Brexit attesa per l'annuncio dello storico accordo sui rapporti tra Europa e Regno Unito, ultime limature sul nodo pesca. Il ritorno di Chico Forti, l'imprenditore sconterà in Italia la controversa condanna per omicidio la gioia dei familiari. Messa di Natale in anticipo per rispettare il coprifuoco alle 19.30 su Rai 1, quella celebrata dal Papa. La CEI solo chiese vicine, lettera di Francesco ai leader libanesi, si cerchi interesse pubblico. Buongiorno dal Tg1, vigilia di Natale in lockdown. L'Italia da questa mattina è zona rossa. Negozi e locali chiusi, spostamenti vietati, autocertificazione obbligatoria per chi si muove solo per motivi di lavoro o di salute. Controlli rafforzati su tutto il territorio nazionale, sentiamo. Giacinto Pinto. Grazie. 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 Grazie.